Per la seconda batteria in corso 1, Giada Orlando, alla 2, Vivian Greif, alla 3, Silvia Hansen, alla 4, Zoe Della Bianca, alla 5, Elisa Marcello, alla 6, Sofia Roverso, alla 7, Elena Rossi. A Messi quindi alla finale junior, Nanetti, Sasso, Vianello, Lovesin, Ortolan, Piria, Pavoni e Valerio Lombardo con l'ultimo tempo 58-73. Anno Girodino, 1, 15, 74.